Diamo il benvenuto alla nostra prima ospite, ciao Laura, Laura Pirro, founder con le sue sorelle e suo fratello del concorso di poesia Il Sentiero dell'Anima. Buongiorno Laura, benvenuta. Buongiorno, grazie Tony. Come stai? Tutto bene? Tutto bene, tutto bene. Allora, anche quest'anno torna questo concorso di poesia che si chiama Il Sentiero dell'Anima, ormai tante edizioni alle spalle, un concorso che prende il nome da un luogo fantastico che stiamo già vedendo nel nostro maxischermo, che cos'è Il Sentiero dell'Anima? Allora, Il Sentiero dell'Anima è un parco principalmente, voluto dall'artista Filippo Pirro, che era mio padre. Adesso Il Sentiero è mantenuto dall'associazione che si chiama appunto Il Sentiero dell'Anima. Questo parco si trova tra San Marco e San Nicandro, al tredicesimo chilometro, in prossimità della Dolina Pozzatina. Ed è un parco dedicato alla poesia e alla natura. Infatti il suo pay-off è un parco di tempi diversi. E quindi, come possiamo vedere già da queste immagini, abbiamo delle installazioni, installazioni polimateriche che cantano sia la civiltà contadina, sia in questo caso, questo è il passore Errande dell'Asia, un omaggio quindi a Giacomo Leopardi. Mio padre era un insegnante, era fortemente convinto che la poesia fosse intorno a noi, anche se a volte non ce ne riusciamo ad accorgere, fosse appunto della natura. E quindi ha avuto questa idea, prendere un libro, ma staccarne ogni pagina, e appendere ogni pagina agli alberi. E quindi mentre si attraversa questo sentiero, che sono cinque ettari, ci si immerge proprio nella natura e nella poesia. Ma la cosa interessante è che ogni poesia ha anche un'illustrazione. Quindi magari arriva prima un'immagine, che le parole, e poi ci si offerma. Abbiamo oltre 80 poeti che dal 2004 hanno aderito al progetto, in italiano, in dialetto, in spagnolo, in inglese, in provenzale. Quindi è molto ricco come percorso. Un posto incantevole, abbiamo detto, ricco di suggestioni, e da qui nasce poi l'idea del concorso di poesia. Il concorso di poesia è stato un'intuzione dell'edizione del Rosone di Foggia. Maria Damarasca ha lesso un piccolo trafiletto di che cos'era il parco. Nel 2004 non c'erano ancora i social. Chiamò mio padre, mi ricordo ancora la chiamata al telefono fisso. Disse, Filippo, ci dobbiamo incontrare. E quindi da 19 anni questo premio è vivo. E permette quindi anche al parco di continuare a crescere, perché i primi premi della sezione A e B hanno la possibilità di entrare in pianta a sabbia all'interno del premio. Queste sono alcune foto delle edizioni passate. Un'edizione che è possibile anche grazie al patrocinio della Fondazione Montuiti di Foggia, della Fondazione Angelo e Pasquale Soccio e del Perimeglio della Puglia. Tutte le indicazioni per partecipare al concorso. Vi invitiamo carissimi telespettatrici e telespettatori a tirare fuori il vostro animo poetico. Tutte le informazioni per partecipare le possiamo attingere dal sito www.ilsentierodellanima.org però chiedo a Laura di riassumerci quelli che sono gli aspetti fondamentali del concorso. Allora, il concorso, come dicevo prima, è diviso in tre sezioni principalmente. Quindi si può partecipare con poesia edita, quindi sezione A se si è già pubblicato una raccolta di poesia, in italiano e in dialetto. Naturalmente se si partecipa in dialetto chiediamo anche la traduzione. L'anno scorso, per esempio, ha vinto un poeta dal Friuli e senza traduzione sarebbe stato impossibile riuscire a comprendere le sue parole. Poi abbiamo la sezione B dedicata a poesia inedita. Quindi chi magari ha una poesia nel cassetto che non ha mai voluto pubblicare, questa è l'occasione magari anche di farsi avanti. E poi abbiamo la terza sezione a cui teniamo particolarmente, il nostro bivaio, lo possiamo chiamare così, è la sezione dedicata ai ragazzi, alle scuole di ogni grado, sezione C. E' interessante questa sezione perché ormai il premio ha 19 anni, l'anno prossimo andiamo sui 20 e abbiamo visto dei ragazzi partecipare alle sezioni C, quindi come studenti, ma poi negli anni partecipare anche con la sezione B. Quindi vediamo come, quando dico un vivaio, questo premio può essere appunto l'occasione per fermarsi e per quindi riflettere sull'importanza che la parola ha e quindi comporre anche una poesia. Quindi l'invito è non soltanto ai poeti, ma anche agli studenti, ma anche ai professori di accompagnarli magari in questo percorso. Nel frattempo tu mi dici entro quando bisogna inviare i propri componimenti poetici e quando ci sarà il premio chiedo alla regia se riesce a riproporci il sito ufficiale del Sentiero dell'Anima al link www.ilsentierodellanima.org slash il premio dove possiamo far vedere ai nostri telespettatori il posto esatto all'interno del sito dove poter andare a scaricare il regolamento. Quindi ti chiedevo Laura scadenza, iscrizioni e giornata del premio. Allora la scadenza è il 24 aprile quindi fa fede l'email o l'invio postale. Naturalmente vi invitiamo a non arrivare all'ultimo giorno per essere sicuri. Noi comunque siamo sempre disponibili sia attraverso il sito sia attraverso le nostre pagine social Facebook e Instagram sia attraverso la media se ci sono delle informazioni aggiuntive. E la premiazione è una premiazione molto suggestiva lo vediamo anche prima dalle immagini si farà proprio all'interno del parco il sentiero dell'anima il 28 maggio la mattina quindi sarà una bella mattinata all'aperto dove quindi non sarà la classica sala da conferenza e quindi sarà anche la possibilità di vivere questa esperienza immersiva all'interno del sentiero e anche poterlo visitare. Io intanto ringrazio Giulio Russo Luigi Martino e Regia che ci hanno proposto puntualmente anche le immagini del sito ringrazio te Laura per essere stata qui con noi stamattina a parlarci di questo bellissimo concorso nato in questo luogo meraviglioso che è il sentiero dell'anima e quindi do invito tutti i nostri telespettatori a partecipare a questo concorso e magari a scoprire il sentiero dell'anima e della famiglia Pirro grazie Laura grazie Tonia arrivederci